I calciatori sono davvero straordinari, ma cosa pretendono? Di vivere in un mondo dorato fatto solo di veline, vacanze a Ibiza e Formentera e spot pubblicitari? E dunque lontano dalla crisi economica e dalla disoccupazione dilagante? Probabilmente ignari che in Italia pensionati, operai e casse integrati non arrivano alla terza settimana del mese. Anche i calciatori dunque dovrebbero fare un esame di coscienza, invece di affermare che non vogliono pagare il contributo di solidarietà previsto dalla manovra BIS. Secondo i calciatori infatti, il contributo dovrà essere versato dalle società di appartenenza. È intervenuto sull'argomento il ministro della semplificazione, Roberto Calderoli, che non ha digerito la posizione dei calciatori e addirittura ha proposto che se dovessero continuare a minacciare scioperi o ritorsione, proporrà, come ai politici, anche per i calciatori, un raddoppio dell'aliquota del contributo di solidarietà. Attacco diretto dunque quello del ministro della semplificazione che ha aggiunto i calciatori fanno i capricci, non so se sia giusto o meno il contributo di solidarietà, ma se c'è qualcuno che dovrebbe pagarlo sono proprio i calciatori che rappresentano la casta dei viziati. Non si è fatta però attendere la reazione dell'asso calciatori attraverso il vicepresidente Leo Grosso. La situazione è semplice e chiara, i giocatori sono lavoratori subordinati e in quanto tali rispettano le stesse regole pagando regolarmente le tasse. Se non è previsto nulla, l'inasprimento dell'aliquota grava sul calciatore, la legge è quella che è, il contratto è quello che è, il resto è solo speculazione spicciola. Sull'argomento è intervenuto pure Adriano Galliani, che ha ribadito che il contributo di solidarietà riguarda tutti i lavoratori dipendenti e i calciatori non ne sono esclusi. Il calciatore dunque è un lavoratore dipendente a tempo determinato, non ha uno status diverso dagli altri. La chiusura è di Maurizio Berretta, presidente della Lega di A, che ha chiuso l'argomento dicendo che l'asso calciatori deve essere ragionevole e deve invitare i calciatori a fare la propria parte. Pensare che qualche giocatore possa essere coperto dalle società è davvero impensabile. In ogni caso, aggiungiamo noi, si tratta di un'extra tassa che deve gravare sul percipiente, in questo caso il calciatore. E io vago! E io vago! Tu...